calignaia 5 di settembre 2019 un'altra bella giornata di sole e di mare un ottimo clima settembrino tranquillo e riscaldato permane lungo la costa labronica peccato che il mare fosse parecchio marmato perché negli ultimi giorni un forte vento di terra ha ghiacciato la superficie del mare speriamo che nei giorni restanti del mese di settembre ci sia tempo buono e il sole possa riscaldare a livello superficiale la temperatura del mare riportandola alle temperature buone di fine di agosto un saluto ciao